Ognuno vive il suo cristianesimo nella situazione esistenziale in cui si trova. Dio non fa preferenze di persona, ma gli è gradito chi corrisponde al suo amore. Si può essere studenti, operai, artigiani, casalinghe, professionisti, militari, imprenditori, monaci, ecc. Se noi offriamo la giornata al Signore sin da quando ci alziamo al mattino, ciò è ottima cosa ai Suoi occhi. In ogni situazione in cui ci troviamo, noi possiamo lodare e glorificare Dio amando il prossimo ed accettando ciò che Egli dispone per noi, secondo la Sua volontà. L'importante dunque è pensare e fare tutto in stretta unione con il Signore Gesù Cristo, il quale non ha disdegnato di lavorare per tanti anni nella bottega di Giuseppe. E si è poi attivato nella vita pubblica per beneficare tutta l'umanità.